cominciare a fare in attesa che arrivi anche lui. Io in realtà non avevo preparato del materiale se non una sola slide che volevo condividere che era quella relativa a un po' il motivo del panel. L'ipotesi era nata dal fatto che quando parliamo di smart city e di smart destination si ha una certa enfasi di riflessione sulle tecnologie. Nel turismo questo aspetto, l'abbiamo visto oggi con il caso di Parigi, è un aspetto che rischia di diventare secondario rispetto alla costruzione del prodotto turistico, della travel experience che possiamo andare a pensare. Ed era un po' questo che avevamo chiesto a De Kerkhoff e a Rodolfo su cui riflettere. Un po' questo è lo spunto. Cioè dove finisce l'interesse per le nuove tecnologie e dove invece la rete può diventare elemento di fascino nel costruire prodotti turistici integrati. Questo era un po' l'elemento centrale. La rete ci può in qualche maniera insegnare come mettere insieme pezzi. Perché avevo assistito di recente a un panel su cosa si sta facendo per l'Expo e uno dei temi è mettiamo insieme molti pezzi di informazioni. Quindi per la prima volta saranno integrati i bus, i treni, gli aerei e così via. Ma una volta che io scopro con un sistema innovativo che l'autobus che mi serve è partito tre minuti prima del treno che dovevo prendere, che tipo di informazione rispetto alla destinazione mi sta aggiungendo? E' questo l'elemento? Cioè la risposta è la tecnologia all'individuazione di una destinazione ospitale oppure la tecnologia ci può servire a costruire la destinazione ospitale, che è una cosa diversa. Quindi un concetto un po' più profondo sulla costruzione dei servizi rispetto al mero QR code, l'app o un sistema di wifi, che sono sicuramente una base ma non sono la risposta al problema. Rodolfo, iniziamo visto che per ora di due relatori ce n'è uno solo. Vabbè, io volevo fare un favore al pubblico dichiarando powerpoint free zone questa così. Infatti non ce l'ho. Infatti non ce l'ho. Così una volta tanto faccio tecnologo senza tecnologia che mi sembra una roba più sensata. Anche perché il discorso è un discorso estremamente complicato. Lo dico sempre, l'ho detto anche prima, eccetera. Noi abbiamo visto un periodo di diffusione incredibile di strumenti tecnologici. Grandissima attenzione su questi. Sono ormai parte di vita quotidiana. Solita battutaccia del tipo alzi la mano che riesce a stare più di due ore senza cellulare o senza PC. C'è sempre qualcuno che dice sì. Poi chissà perché appena finisce una sessione sono tutti che si litigano la prima tastiera che trovano. Quella cosa lì. In realtà questo ha degli effetti molto più profondi. Una serie di lavoretti di vario genere che ho fatto a livello teorico e anche a livello un po' più empirico. Sta arrivando eh. Vabbè. Dimostra molto chiaramente come soprattutto per sistemi come quello turistico. L'integrazione fra i due aspetti, chiamiamolo virtuale e reale tanto per capirci in realtà, è un'integrazione così profonda che non si riescono più neanche strutturalmente a separare le due cose. La tecnologia non è più solo uno strumento per fare. Diventa qualcosa di più. Il web, sì, ha una base tecnologica forte che va conosciuta, utilizzata, eccetera, eccetera, però è anche diventato un'incredibile e molto fedele rappresentazione di strutture, di processi sociali di tutti i generi. E questa cosa va tenuta conto perché il focalizzarsi solo su uno degli aspetti, quando si ha a che fare con un sistema complesso come una destinazione turistica, ma potrebbe essere una città o cosa del genere, il focalizzarsi solo su uno degli aspetti rischia di portare a situazioni più o meno disastrose. E qui quindi bisogna riuscire a cercare di combinare le diverse componenti, che non è una delle cose più semplici che possono farsi. A me piacciono molto manifestazioni come queste, mi piacerebbe molto che manifestazioni come queste venissero accoppiate anche, che in manifestazioni come queste ci fossero anche dei momenti di riflessione sull'aspetto non tecnologico, sull'aspetto sociale e sull'aspetto umano. Perché questi diventano aspetti estremamente importanti in un mondo di questo tipo. È bello farsi affascinare dai gadget, dalle app, dai sistemini, eccetera, eccetera, però forse ogni tanto ci dimentichiamo che dietro ci sono uomini, ci sono persone, ci sono pensieri, ci sono modi di vivere, eccetera, eccetera. In questo periodo, per esempio, è un mondo che vive molto anche di moda, in questo periodo è molto di moda parlare di città intelligenti, di spazi intelligenti, eccetera. Il problema è capire cosa vuol dire intelligente. Esatto. Il problema è capire che quell'intelligenza non può essere solo un'intelligenza strumentale e tecnologica, ma deve arrivare attraverso un'armonizzazione dei diversi aspetti, che non è una cosa facile. Non è una cosa facile perché tutti voi, molto più di me perché ci lavorate, siete, dico esperti anche se la parola non mi piace, di questa strana cosa chiamata turismo. In realtà nessuno è mai riuscito a definirla, nessuno è mai riuscito bene a capire che cos'è, chi è il turista, a parte le definizioni ufficiali che fanno più o meno ridere, ma non si riesce a capire, non si riesce a capire chi è un'azienda che si occupa di turismo, eccetera. Io ho il mio personale paradosso del barbiere, che normalmente funziona molto bene quando il solito ben informato dice ma non guardi, sai che il turismo vuol dire che è un'azienda che serve i turisti, eccetera. Si va bene un po' che. Siamo in un posto dove ci sono 300 persone, d'estate ce ne sono 3000, il barbiere serve quelli, il barbiere è un'azienda turistica. Maybe, maybe not. La situazione di oggi mi sembra molto, un'altra delle considerazioni che io faccio in questi casi è che forse ci siamo dimenticati del nostro passato e forse ci siamo dimenticati di alcuni fatti che potrebbero aiutarci a capire meglio. Ci sono periodi storici che somigliano molto a quello che stiamo vivendo ora. Sono periodi storici lontani, vanno interpretati. Però se voi tornate a un periodo che è intorno all'anno 1000, un po' di storia l'avete studiato tutti, no? Un periodo che è intorno all'anno 1000, cosa succede in quel periodo? Con tempi diversi, ma succedono delle cose molto interessanti e molto importanti. succede che finalmente abbiamo un periodo di relativa stabilità dopo tutte le guerre, le invasioni, eccetera. Succede che questo periodo di stabilità viene accoppiato con un incredibile periodo di innovazione tecnologica che per quei tempi era rivoluzionaria. Si inventa l'aratro pesante, si inventa il collare e le bardature per i cavalli, si reinventano i mulini, si comincia a far ruotare le coltivazioni. Tutto questo porta a un incredibile benessere molto locale. Per di più è lo stesso periodo in cui i forti poteri centralizzati dell'impero della Chiesa in qualche modo spariscono. E quindi si sviluppano incredibilmente delle realtà locali che a questo punto diventano autonome. è il periodo in cui nascono i comuni. I comuni ruotano intorno a che cosa? Ruotano intorno ad alcune cose fondamentali. Ruotano intorno alla conoscenza profonda del territorio. Ruotano intorno a un certo tipo di solidarietà che fino allora non esisteva. A un certa forma di collaborazione. Nascono i mercati. La piazza del mercato comincia lì. Il mercato è un posto dove bisogna mettersi d'accordo. Bisogna trovare un minimo di collaborazione per andare tutti lì. Poi ci si fa la guerra quando siamo in piazza. Però almeno un minimo di collaborazione bisogna trovarla. E questo dà un incredibile impulso a quegli sviluppi che poi diventeranno l'umanesimo rinascimento. Nascono tutti lì. E' periodo in cui nascono le corporazioni che a differenza delle nostre associazioni oggi e qui mi faccio come al solito cancellare da un'altra serie di amici nascono con l'intento di garantire gli utenti di certi personaggi che facevano mestieri eccetera e della qualità di quello che facevano loro. Nascono come fondamentalmente momenti di formazione. Poi degenerano e diventano gruppi di pressione politica eccetera. Ma nascono per difendere certi modi di fare che devono essere costruiti in un certo modo. Questo è quello che secondo me è una grande lezione che si può tranquillamente riutilizzare oggi con i tempi e le modalità che abbiamo oggi. Si può tranquillamente ripensare a una serie di fenomeni, a una serie di cose che abbiamo fra le mani e che vanno riarmonizzate in un certo modo. Una città, una destinazione intelligente non è intelligente perché c'è una sovraesposizione tecnologica. Tutti voi sapete che la tecnologia è una roba che riguarda fondamentalmente oggetti stupidi. Le macchine sono totalmente stupide, non sono intelligenti per niente. Sono intelligenti quelli che le usano. E questo vuol dire riuscire a coordinare e qualche tentativo in corso c'è già, riuscire a coordinare una serie di elementi che vanno dalla mobilità territoriale all'organizzazione di certi tipi di imprese, di attività eccetera con il supporto degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione e che sono le tecnologie. A me fa sempre molto piacere vedere iniziative di vario genere, però queste iniziative non possono essere totalmente scordinate fra di loro. Non possono non avere un'architettura di base, non possono prescindere da certi elementi. E' molto bello vedere, e qui rincarco, così finalmente riduco il numero di amici. E qui rincaro la dose. Non è assolutamente né interessante, né produttivo, né efficace la dispersione in termini di oggetti di vario genere che vedete in giro. Sono molto contento quando vengono annunciati i nuovi per l'ennesima volta portali, megaportali, sistemi di booking eccetera eccetera. Mi chiedo che senso abbia. No, non puoi dire questo. L'abbiamo lanciato ieri quello della regione Toscana, nuovo dai. No, no, voglio dire, mi chiedo che senso abbia se questi oggetti qui sono scollegati da tutta un'altra serie di ragionamenti. Se calano in realtà in cui per esempio le infrastrutture non sono sufficienti. O se calano in realtà in cui non ci si riesce a mettere d'accordo e utilizzare dei minimi standard comuni di comunicazione e così via. E quindi secondo me richiede un grosso sforzo collettivo riuscire a produrre una cosa che possiamo chiamare destinazione intelligente. Richiede un grosso sforzo collettivo perché richiede di riuscire a mettere insieme una serie di elementi che riguardano fattori alcuni dei quali sono sotto il nostro controllo come individui, associazioni eccetera eccetera altri dei quali non possono essere controllati direttamente ma possono essere influenzati in qualche modo. Quando ci lamentiamo che l'amministrazione pubblica fa o non fa certe cose ci dimentiamo un piccolo particolare che quell'amministrazione pubblica non è un'entità astratta ma un'entità che noi abbiamo contribuito a mettere lì. È un'entità sulla quale possiamo avere potere di influenza e potere di azione purché lo si faccia raggiungendo un minimo di massa critica eccetera. Certo che dal punto di vista individuale non è facile. E quindi se devo pensare a un mondo ideale a un mondo in cui posso pensare a una destinazione intelligente penso a un oggetto o un sistema di questo tipo. Sì, noi abbiamo avuto prima come ospite la città di Parigi che era esattamente un ragionamento di questo tipo cosa può fare una organizzazione territoriale in questo caso una municipalità rispetto a un tema che è quello in quel caso della cattiva reputazione ma poi un po' legato alla mancanza di prodotto comunque ad un'integrazione del prodotto e lì la risposta è stata assolutamente non tecnologica cioè è stata quella di fare della formazione agli operatori back to basic per migliorare la qualità dei servizi della città in generale partendo dagli operatori museali piuttosto che dai vigili e da tutte le altre strutture con un intervento molto interessante sotto il profilo della metodologia quindi non la classica risposta mettiamo i QR code ai monumenti di Parigi che era uno spreco di tecnologia che era uno spreco di tecnologia ma che avrebbero sostanzialmente non variato di un millimetro il percepito degli ospiti di quel territorio perché poi non è che queste tecnologie e la realtà aumentata tutti questi mondi che ora ruotano intorno al turismo sappiamo che hanno anche un'obsolescenza rapidissima dopo un po' ci si annoia non è che tutto il tempo poi uno gira per Parigi con un iPad che gli fa vedere cosa c'è dentro quel palazzo soprattutto se poi per usare quell'iPad non riesco a avere collegamenti decenti non riesco a avere cose mi tocca pagare tariffe in roaming eccessive e cose del genere perché poi sono questi gli elementi gli elementi che a volte ci si dimentica a me è fatto molto piacere vedere che per esempio nel mitico e tanto esaltato piano strategico del turismo italiano una delle voci fosse produrre app per i turisti però mi chiedo che senso abbia mi chiedo se il senso abbia quando poi siamo in un paese in cui le possibilità di usufruire di connessione sono francamente poco adatte a attività di certo tipo abbiamo notizie anche di situazioni in cui viene venduto il codice QR che è un servizio attualmente gratuito sulla rete ad alcune amministrazioni comunali che poi rimandano a un sito in flash che quindi non sarà visitabile non sarà navegabile da un dispositivo mobile quindi abbiamo il completamento diciamo della filiera tecnologica rischia di diventare questo la frase che era un po' l'incipit della riflessione è questa di Brian Solis il libro è appunto uscito qualche giorno fa in italiano ed è un po' quello che lui chiama il medialismo cioè un eccesso di attenzione da parte delle aziende ma l'argomento si può trasferire esattamente nello stesso modo le destinazioni di attenzione alla tecnologia come se questo fosse un po' il core del problem solving io con la tecnologia riesco a risolvere tutti quelli che sono i miei problemi organizzativi la nostra idea è che non sia esattamente così riesco a risolvere i miei problemi organizzativi o riesco a sopperire a carenze molto più banali per esempio di idee, di prodotti, di servizi e cose del genere ci sono mirabili esempi in cui si tenta di utilizzare la vernice tecnologica ma quando poi gratti via la vernice c'è molto poco sotto è un problema di contenuti come al solito i contenuti sono mestiere lungo, difficile, faticoso e non c'è tecnologia che aiuti molto nella produzione di contenuto degno di questo nome mi rendo conto che questa è una visione un po' utopista però vuol dire se ci pensate è una visione che non è totalmente irrealistica perché poi alcuni esempi alcuni esempi molto belli ci sono alcuni esempi di utilizzi intelligenti integrati di tecnologie con contenuti con contenuti di grande qualità ci sono basta andare in giro per il mondo se ne trovano gli esempi ne avete visti tanti anche qui a me piacerebbe un'altra volta c'è un altro sogno per eventi di questo tipo che è una sessione di worst practices invece di best practices perché secondo me dagli errori degli altri c'è da imparare molto la vedo dura da organizzare ma sarebbe molto carino vedere che cosa di sbagliato è stato fatto perché a quel punto si capisce molto meglio quali sono i limiti e quali sono le attività che si possono mettere in piedi Oc arriviamo ce la facciamo intanto Trenitalia si scusa per il disagio anche vero la seconda cosa da dire è che sarò esattamente all'opposto delle conclusioni che ho sentito prima perché chiaramente essendo della cultura digitale porto anche la cultura digitale detto questo ho trovato importante l'avviso di Rodolfo Baggio perché chiaramente e io ci credo in assoluto quando si tratta di turismo con di qualche tipo di relazione di qualche servizio o commercio adesso nella cultura relazionale è assolutamente essenziale di fare un approccio ibrido tra il virtuale e il reale e il faccia a faccio però dirò due o tre cose che ho provato io nel wire tourism strategia ibrida per lo sviluppo del turismo combina media analogici e quelle digitali ibrida la rete e il faccia a faccia esempio di realtà accresciuta vi farò vedere due o tre esempi di realtà accresciuta nel contesto della presentazione il dominio del virtuale e quello analogico sono entrambi presenti e collaborano per accrescere sia la dimensione virtuale che quella analogica della realtà intanto dobbiamo dire lascia perdere un cloud siamo dentro una nuvola permanente di informazione meno saperlo bene e usarne a un modo che rispetta le possibilità della tecnologia il turismo oggi è circondato di un'ora elettronica tutto non va da negarla wire tourism per esempio semplicemente per comprare qualche sia si usa la gente hanno l'abitudine di essere coinvolti con qualche schermo e a negoziare qualche transazione con questo schermo allora per acquistare vacanze 42% 28% si per raccogliare informazione sì per prenotare una vacanza saldo in agenzia o sul posto no non l'ho usato vuol dire che adesso solo 12% e questo non è assolutamente recente diciamo due anni fa già due anni fa c'erano 12 persone che non usavano attività online recensione pubblicazione consigliato il fornitore inviato un ringraziamento al tour contattato il tour operator altro vuol dire le varie usi del wiretourism in relazione che esistono già dentro l'utente e il tour operator dal web strumentale chiaramente passiamo al web razionale questa cosa è assolutamente essenziale per capire che succede nella le industrie oggi e abbiamo tutti visto questa cosa della long tail l'arri ho fatto vedere perché c'è anche un riferimento specifico a che succede con la long tail dei consigli di viaggi la long tail per quelli che non l'hanno già sentito dire è l'infinitudine di piccoli gruppi di potenziali clienti di qualche imprese che sia al paragone del 20 22 23% dei grandi brand che prendono chiaramente l'attenzione su 20% del mercato ma di puntare su un mercato di massa come quello non serve perché è meglio puntare su un mercato di nicchia e il mondo del turismo e il mondo dei viaggi è certamente un mercato di nicchia anche di massa ma di nicchia e questa nicchia forse è quella da provare si vede queste che sono le destinazioni di mass destination che si vede si vede che dal 98 a 2008 la quantità di turismo classico è passata da 36 a 26% quando quello delle nicchie è passato di 64 a 74 vuol dire un rovesciamento di tendenza del pubblico e questa è la long tail perché funziona perché si trovano voli meno costosi più invito a viaggiare la ricerca costa meno né del tempo né del denaro vista più grande la possibilità anche di uscire dei sentieri battuti o delle zone già esplorate la chiacchierata elettronica funziona molto bene e c'è anche i like e tutte le cose che succedono oggi per incoraggiare la gente a usare di questa strada peer ratings mamma mia peer ratings siamo tutti letteralmente profilati e giudicati a partire da un tipo di page ranking siamo un inventore italiano quello che ha inventato page ranking fatto la fortuna di google massimo marchiori però siamo tutti page ranked siamo tutti a disposizione di un sistema di profilazione che da dove siamo al rapporto di altri aspettate questo va abbastanza bene peer rating è una cosa fondamentale per tutte le agenzie di viaggio reinforce authentic success chiaramente funziona perché la lunga coda risponde è un successo però non segue bene la manufactured experience o di esperienza che è unicamente fabbricata diciamo che sono le forze della long tail democratizzazione dei strumenti di produzione Karl Marx sarebbe molto felice perché finalmente i strumenti di produzione sono amande dell'operaio no? vero? per quelli che hanno ancora ricordo del marxismo ci siamo in assoluto vuol dire che noi abbiamo strumenti più costosi della storia della comunicazione umana in mano con youtube un sistema di distribuzione assolutamente gratuito e a disposizione di tutto questo vuol dire una situazione totalmente diversa da quella del passato e anche questo democratize the tools of production minimize transaction of cost vuol dire ridurre molto tutti i costi di transazione oppure di comprare il prodotto e allora c'è questo reputation capital che connesse i consumers per amplificare il word of mouth però grazie a dio abbiamo Rodolfo che noi dà questo avviso c'è sempre il rischio di eccessivo interesse per le tecnologie più che per relazioni siamo 100% d'accordo su questo nel turismo è tutto infiorire di app per QR code vi faccio vedere due o tre pannelli touchscreen campagna di social media marketing come ulteriore estensione in una comunicazione unidirezionale uno zero nessuno prova a fare network finalizzato per far stare bene i nostri ospiti diventa una tecnologia autoreferenziale ancora totalmente d'accordo invece la rete dovrebbe insegnarci a fare rete nel turismo fare rete questo è fondamentale nel turismo tutto questo è l'unico sistema per generare destinazioni di successo o connettivo come abbiamo inserito nel titolo a livello sistema fra mondo virtuale e mondo reale questa ibridazione di che parlavo prima e l'emergere in ecosistemi digitali come passo importante per una smart destination un po' sull'idea dei smart cities ma non con le complicazioni di tipo territoriale allora a questo rispondo sì siamo d'accordo che sono le grandi regole della protezione e la promozione del turismo online diffondere l'informazione tutti lo fanno la promozione è basata sulla diffusione delle informazioni ma la novità è coinvolgere la gente perché la gente è già coinvolta naturalmente triturando il vostro telefonino ogni mezz'ora e anche di meno voi siete coinvolti già non per fare turismo semplicemente mandare sms ma siamo constatamente invitati a coinvolgermi noi e a essere presso dentro un sistema di comunicazione vuol dire che siamo già disposti a comunicare coinvolgere la gente e oltre di coinvolgere la gente c'è questa creare comunità creare comunità di viaggiatori che hanno fatto la cosa prima che lo raccomandano che parlano tra di loro che fanno mettere la gente insieme che hanno interessi simili una storia che comincia alla metà degli anni 90 nel mondo del web però che adesso è arrivato a una maturazione fenomenale assume alcuni esempi diffondere vuol dire profilare siti blog social media user generated content questo serve a distribuire le informazioni offrire una massima pre esperienza siamo nella cultura esperienziale oggi quello che va per andare al turismo vuoi un'esperienza surrogate diciamo una pre esperienza se è possibile darla meno male di farlo insitta la gente a fare la cosa sul vero aiutare disposizione per i consigli chiaramente ci siamo coinvolgere allora torniamo io ho fatto un po' di lavoro sulla domanda per la basilicata e abbiamo questo l'ho fatto diciamo cinque anni fa abbiamo proposto di usare del QR code precisamente ma non al modo semplicemente per dare informazioni sul monumento ma per fare informazioni sui prodotti e fare della basilicata una pubblicità oltre delle frontiere a partire dei commenti fatti dalla gente sui prodotti tipo melanzana o tipo melanzana rossa cacciacavallo anche questo formaggio della zona l'idea di fare dal prodotto la pubblicità sul turismo nella basilicata c'erano due o tre strategie che abbiamo inventato per fare alzare per l'entità di turismo della basilicata per aumentare il turismo della zona possiamo essere l'interfaccia crea questa ora di più l'ho fatto vedere intanto di qua c'è una margine elettronica di tutti gli oggetti di tutti i posti di tutte le persone noi portiamo un'ora elettronica quando si colpiamo adesso andiamo su google per sapere che si dice della persona che abbiamo visto appena abbiamo un'ora elettronica e un sorta realtà aumentata che non circonda la strategia del wiring dei prodotti locali è un funzionamento a circuito perché chiaramente fa conoscere il prodotto fa desiderare di andare nella zona fa commentare la gente coinvolte la gente e tutto questo è stato infatti una campagna che è fatta a metà come sempre dopo la consulenza le cose non seguono però è fatta è andato abbastanza bene si possono immaginare navigare come Rodolfo Baggio ha già parlato di queste macchine che possono fare ricostruire il castello San Angelo per esempio o qualche museo indietro della forma non so se dovete vederlo diciamo però se c'è tempo ci torno quanto tempo ha? 10 minuti forse dopo vediamo le cose che possiamo questo è un tipo di pre-esperienza fatta da un amico che è un amico artista che considero come uno dei più importanti artisti interattivi e lui ha creato questo sistema di navigazione dentro un paesaggio aspetta che lo faccio vedere dentro varie scelte che sono connesse che sono connesse a diciamo peisaggi in offerta offerta il sistema studia il profilo della persona tipo big data ma un po' meno arriva a sapere un po' di più su che tipo di gusti questa persona ha e vi propone allora le cose che vi faccio vedere bravo eccolo questo funziona maurice ovviamente maurice benayun che è certamente uno dei più grandi maria grazia mattei che sta con noi è un'esperta pure lei dell'arte delle nuove tecnologie e siamo certo che maurice conta tra i più grandi ha creato questo per raggiungere toronto montreal e parigi nel 50 anniversario tra il canada e la francia per far parlare nelle una grotta comune del tipo le due persone che si che si incontrano al genere allora questi sono paesaggi che corrispondono alla presa di sensibilità della persona che sta provando di fare una scelta un sistema che infatti si può mettere su un computer e che può essere molto 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 pertinente per la scelta di viaggio vi farò vedere un altro dopo che è un po' più più forte ancora perché abbiamo forse un po' di tempo ma volevo avanzare sulla direzione di promozione diffondere coinvolgere user generated advertising l'abbiamo visto l'augmented reality ok non ho potuto mettere l'esempio e posso spiegare c'è un programma che si chiama layers che è facilmente disponibile e che la gente possono scaricare gratuitamente per vedere una zona dove qualcosa che non è che non è come dire affiche che non è presentato ma è disponibile sull'iPhone o sul tablet o quel che sia che vuol dire vuol dire che è una pubblicità o un'informazione o un rapporto relazione non intrusiva che non cambia niente un esempio meraviglioso è Antonio Caronia un grande amico comune di Maria Grazia e io che è un grande esperto anche della cultura digitale è morto sei mesi sette mesi fa dopo la sua morte un altro artista italiano Giacomo Verde ha creato la sua statua e l'ha messo su una fontana di Milano ma non si può vedere almeno che tu hai con layers e che tu la vedi questo è un immaginario un rapporto tra il virtuale reale che tipicamente è un'invenzione di artista ma che ti fa vedere questa dimensione totalmente nuova della possibilità di visitare le cose io sono stato a Hong Kong per avere una macchina fenomenale una macchina che mi dà la possibilità di vedere il contenuto di poste inaccessibili tipo le grotte di Dunhuang dove sono mille anni di storia del buddismo in pintura con un sacco di differenza dall'inizio alla fine in settecento grotte grotte che sono e tu puoi solo andare dentro con una lampa e vedere pezzo a pezzo che ha fatto quest'altro amico artista Jeffrey Shaw ha creato un sistema per prendere una volta senza mettere troppo di luce dentro questa casa per non rovinare la pittura ha fatto almeno adesso costa una fortuna di farlo ma ha fatto dieci completa ripressa delle contenute di queste grotte e lo fa vedere una grande sala rotonda e tu puoi navigare dentro per vedere le cose ma non con una lampa vedere tutto e tu puoi anche vedere layers e layers di informazione che i sui artisti hanno messo per far capire come funzionava questa società non possiamo dire che non aiuta il turismo un sistema del genere e si distribuirà sempre di più vuol dire che l'augmented reality è da seguire c'è anche il coinvolgimento questa è un'altra cosa di Maurice Benayun che è interessante perché fa vedere come fa coinvolgere sempre a Hong Kong ragazzi con direzione di viaggio è un po' e si fa vedere esattamente questo come sono ecco si naviga dentro una zona per capire la Francia si può fermare per andare l'idea è di creare questo vortice di immagine lui sta chiaramente giocando molto più velocemente che uno che voleva fare l'istellazione però l'idea di avere questo potere sull'immagine e questo modo di vedere le cose è molto carino e molto interessante gli ragazzi si divertano sempre fermano l'immagine la discutano bene penso che possiamo andare alla seguente l'ultima regola della promozione del turismo è creare comunità su di questo un altro progetto che ho fatto per Pompei era non veramente per il turismo proprio benché potrebbe aiutare l'idea di fare crowdfunding primo adottare una delle case tipo la casa del fauno la casa del poeta tragico e fare adottare come l'Italia non sa riparare Pompei e che Pompei è un eritaggio mondiale non solo italiano chiediamo al mondo di farlo creare amici di questa casa a partire di questo fare un budget di riparazione quanto costa e fare un crowdfunding per questa casa questo è un modo diciamo di rimettere Pompei al centro del mondo come dovrebbe essere intanto sono varie cose che ho fatto crowdfunding essendo una chiaramente dare anche responsabilità nel senso che una volta che tu sei amico della casa del fauno tu sei responsabile di questo ha fatto un investimento che potrebbe essere 10 euro ma anche un investimento emozionale di appartenenza a questa zona un modo che oggi è possibile grazie di nuovo alla rete l'ibridazione tra faccia a faccia personale e virtuale e più di tutto come fare comunità è stato sempre l'ideale incontri io penso all'esperienza recente di Firenze di Matteo Renzi che ha fatto un grande successo sulle piazze di Firenze quando lui è arrivato per chiedere che voleva fare la gente faceva una consulenza diretta da persona c'era sulla piazza standing room only ha detto adesso non ho più tempo di lo fare sulla piazza direttamente e facciamolo con la rete è stato non un disastro ma è stata una persa enorme dell'interesse della gente vuol dire che la rete da se stessa è assolutamente insufficiente però la rete supporta escenitamente gli sforzi del faccia a faccia e del reale e questo che parlo di ibridazione la nostra cultura adesso è una cultura ibrida non è una cultura digitale è una cultura generale che contiene il digitale e questo si deve sapere non essere contro non essere unicamente pro però arrivare a negoziare questa nuova relazione che abbiamo con con questa cultura danno come ultimo esempio non so se sono in linea per 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 vedere questo ma un collega dell'università Federico II di Napoli mi mi ha chiesto di aiutarlo a fare questo nuovo progetto angeli per viaggiatori che è un modo di far incontrare infatti vediamo se funziona vediamo si sembra funzionare oh no ragazzi vabbè non funziona l'idea è un video che fa vedere come si raccogliano i persone dentro la città di Napoli che sono pronte da far vedere le cose carine della zona anche ospitare o no sono vari livelli di c'è tutto molto per bene diciamo molto protetto molto organizzato ma crea la possibilità di fare fare contatti con la gente di una città a un'altra e adesso lui sta espando sta provando di farlo in Emilia Romagna intanto non so più una delle città dell'Emilia vabbè io volevo semplicemente dare alcuni esempi riprovocare la discussione con con Rodolfo e vi ringrazio per l'attenzione Rodolfo vuoi dire qualcosa? no secondo me non siamo molto lontani io faccio di mestiere per 25 anni ho fatto l'informatico e il tecnologo ma non venendo non essendo nato in quel mondo l'ho sempre visto un po' da fuori continuo a pensare che la tecnologia è uno splendido mondo che va capito e ha saputo usare e che comunque come dicevi anche tu non è l'unico mondo possibile oggi abbiamo delle possibilità che fino a ora erano nei film di fantascienza o cose del genere l'idea che con dei mezzi veramente ridicoli uno possa creare mondi mescolando pezzi reali e pezzi virtuali è una cosa che dà delle opportunità enormi ho sempre pensato e sono fortemente convinto che però un eccessivo innamoramento della tecnologia in quanto tale sia pericoloso perché poi ti distoglie da quelli che sono le attività e i problemi soprattutto in mondi come il turismo dove il coinvolgimento è molto è tra virgolette molto semplice il coinvolgimento attraverso strumenti tecnologici di visitatori turisti eccetera eccetera però molto spesso purtroppo soprattutto in alcune parti di questo paese e questo resta un coinvolgimento come dire puramente teorico perché poi dopo la realtà non ci fa trovare prodotti servizi eccetera adeguati a queste cose quindi bisogna in qualche modo armonizzare i due mondi perché se no non funziona quando dicevo prima noi parliamo oggi di ecosistemi digitali ma gli ecosistemi sono sono ambienti nei quali tutti gli elementi concorrono allo sviluppo dell'ecosistema non uno solo e sono anche ambienti nei quali gli equilibri possono essere estremamente delicati per cui sviluppare troppo o non sviluppare alcuni di questi porta normalmente alla distruzione dell'ecosistema non al suo sviluppo sono d'accordo salve che l'Italia adesso è molto in ritardo sull'agenda digitale a tanti livelli e che questo fa anche parte del problema vuol dire che la diffusione dei strumenti di connessione non è sufficientemente larga per veramente dare immediatamente la prova del successo questo lo so ma dobbiamo parlare delle cose che vengono non quelle che sono passate io vedo che finalmente questa agenda digitale si farà e che finalmente l'Italia sarà con essa noi siamo inguaribilmente ottimisti adesso abbiamo due giovani personaggi finalmente verso la testa del paese potrebbe che questi sono almeno i migranti digitali diciamo certo va bene con questa battuta ringraziamo il professore ringraziamo anche Rodolfo grazie a voi non ringraziamo Trenitalia ma va bene va bene ma le infrastrutture che ti fregano va bene grazie molto ok grazie a voi bravo mi ha fatto molto benedetto di vedere la tua grazie a voi